Care studentesse e cari studenti, desidero innanzitutto augurarvi buona fortuna per la conclusione del vostro percorso scolastico. Al termine della scuola siete chiamati a compiere una scelta di vita importante, quella del percorso universitario. Sono sicuro che non tutti avrete le idee chiare, è difficile averla alla vostra età. Ma non dovete preoccuparvi troppo di questo. Durante la carriera universitaria avete la possibilità di definire meglio il percorso sulla base dei vostri interessi di studio o di cambiare strada, se è quello che vi sembra più giusto per voi. Noi, come Università di Siena, ce la mettiamo tutta per aiutarvi a scegliere in modo consapevole e informato il corso di laurea più in linea con le vostre inclinazioni e desideri. Con i nostri servizi di orientamento non vogliamo solo aiutarvi in questa scelta fornendovi le prime informazioni su come funziona l'università. Vogliamo accompagnarvi durante tutto il percorso e supportarvi nel modo migliore possibile. Come rettore di quest'Ateneo vi invito a partecipare all'Open Day del 20 febbraio per conoscere meglio l'Università di Siena. I responsabili dei nostri 40 corsi di laurea ve li presenteranno descrivendone gli specifici contenuti, le attività didattiche, gli sbocchi lavorativi e i servizi offerti agli studenti. Inoltre potrete visitare le strutture didattiche e rivolgere tutte le vostre domande a tutor e docenti. Vi invio il mio più sentito benvenuto all'Università di Siena e mi raccomando vi aspettiamo numerosi dell'Open Day.